Il leader di FDAI Giorgia Meloni smorza i toni trionfalistici del PD e si dice soddisfatta dell'esito elettorale. Poi la proposta per Draghi al Colle è subito. Giorgia Meloni, dopo i risultati di queste amministrative, non è affatto convinta che il centro-sinistra possa definirsi trionfante. Commentando l'esito del primo turno delle amministrative, il vertice di Fratelli d'Italia ha espresso questo concetto attraverso parole precise, parlando di grande vittoria, ma io invito il centro-sinistra a rinviare i festeggiamenti a dopo i ballottaggi, ha specificato. Roma, del resto, è una partita ancora aperta, mentre la coalizione guidata dal PD è risultata vincente in città dove già governava. Anche Torino, altra importante realtà contesa, si deciderà tra 15 giorni. Insomma, la Meloni non molla e sulla questione romana pone accenti sulla performance del candidato a sindaco ed ex ministro dell'economia Roberto Gualtieri. Il risultato di Gualtieri secondo me è molto deludente, è molto sotto le aspettative, ha dichiarato come ripercorso dall'Encronos. Con buone probabilità, l'ex ministro della gioventù si aspettava che il PD si affermasse con un distacco maggiore rispetto al risultato ottenuto da Virginia Raggi e da Carlo Calenda. Sugli equilibri di coalizione, l'ex vice presidente della Camera guarda ad un centrodestra con i conservatori in primo piano, Fratelli d'Italia è il primo partito del centrodestra. Un centrodestra attrazione Fratelli d'Italia è vincente. Questa è una fase in cui ogni leader sta dicendo la sua. Poi si aprirà il periodo delle riflessioni. Ma intanto ci sono i ballottaggi. Sfide che non vedranno protagonista il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. La formazione grillina, stando al pensiero della Meloni, vive la sua crisi peggiore. La prima notizia è che il Movimento 5 Stelle è scomparso. Una buona notizia, si torna al sistema bipolare. Il leader di FDI guarda ancora ad un sistema che preveda la competizione tra due coalizioni, quella di centrodestra e quella di centrosinistra. Allarmante, invece, il commento sull'affluenza. Per la Meloni, infatti, non è in crisi la politica, non sono in crisi i partiti, ma è in crisi la democrazia. Sarebbe il sistema in sé, dunque, ad essere oggetto di un contraccolpo, e non le formazioni politiche e gli attori della scena pubblica.